è come un modo di pensare questo è immaginate che stiamo per essere visitati immaginate che siamo molto fiduciosi che stiamo per essere visitati da alieni super intelligenti diciamo 10 anni o 20 anni massimo super intelligenti sta dicendo che in 20 anni ci saranno alieni sulla terra bene la super intelligenza digitale sarà come un alieno sarà come un alieno ma ma la mia domanda è pensa che ci sono altre vite intelligenti fuori dalla terra sembra probabile ma penso penso che sia una grande domande della fisica e nella filosofia quella che dove sono gli alieni forse sono in mezzo a noi non so alcune persone pensano che sono un alieno non è vero non è vero ma forse noi siamo alieni forse noi siamo alieni Elon voglio dire se guardiamo a questa parte del mondo credono che gli esseri umani non sono dalla terra arrivano da qualche altra parte adamo ed eva sono arrivati da qualche altra parte sulla terra pertanto in un certo modo gli esseri umani sono alieni su questo suolo pensa che si possa avere un contatto con gli alieni nei prossimi 50 anni questo è difficile da dire voglio dire se ci sono degli alieni super intelligenti da fuori probabilmente ci stanno già assorvando questo può essere molto possibile e noi semplicemente non siamo abbastanza svegliati a rendersene conto ma possiamo tornare indietro e fare alcuni calcoli ogni civilizzazione aliena che è totalmente interessata a popolare la galassia anche senza superare la velocità della luce anche se si muove diciamo al 10 o 20 per cento della velocità della luce possono popolare l'intera galassia diciamo in 10 milioni di anni forse 20 milioni di anni al massimo e questo non è nulla del grande schema delle cose